Dal 4 maggio il trasporto ferroviario regionale nella provincia di Messina è raddoppiato, quindi si attesta al 50% della offerta commerciale originaria prima della fase di emergenza Covid. La situazione non ha presentato criticità, evidentemente molti viaggiatori hanno preferito spostarsi ancora con le autovetture private, perché riscontriamo treni al di sotto della capienza obbligata dalle restrizioni del periodo emergenziale, i treni come sapete come tutti i mezzi di trasporto in questo momento possono mantenere una capienza massima del 40% rispetto ai posti occupabili, però si registra un incremento intorno al 15% rispetto alla fase di lockdown. Per quanto riguarda invece i mezzi veloci, qual è la situazione tra Messina, Reggio e Villa San Giovanni? Per quanto riguarda i mezzi veloci si è avuto un incremento di viaggiatori, perché i pendolari dello stretto sono tanti e quindi nella seconda fase si è avuto un incremento, ma sono stati soprattutto incrementati per garantire la continuità territoriale con due treni che sono in tessi di giorno, che erano stati soppressi nella fase di lockdown o comunque non attraversavano lo stretto, sono state ripristinate due corse per consentire ai passeggeri legati al biglietto ferroviario di prendere il convoglio sulla sponda calabrese e di avere la continuità anche sulla sponda siciliana, quindi due corse dedicate. Anche qui un incremento medio, qualcosa in più, intorno al 20-25%. Limitazioni che valgono anche per il TPL, andiamo all'ATM, c'è stato qualche potenziamento che riguarda soprattutto la linea shuttle, adesso però l'azienda comunica anche altre corse su altre linee. Si sta probabilmente cercando di modulare il programma di esercizio man mano che si testa sul territorio l'effettiva richiesta da parte dell'utenza. I primi due giorni sono stati abbastanza ben gestiti, non si sono trovati tranne in alcune linee, soprattutto quelle più dei villaggi, ed è lì che bisogna probabilmente ritornare al vecchio piano di esercizio, quindi quello dell'esercizio comune giornaliero, non feriale, come è stato mantenuto. Mentre per quanto riguarda soprattutto il tram, probabilmente bisognerà aumentare ben presto la frequenza, perché è rimasto con una frequenza di 30 minuti e sebbene ancora non ci siano problemi di riempimento, però la situazione attualmente è gestibile, ma vediamo che anche in città c'è una grande invasione probabilmente di auto private, perché c'è anche un po' di diffidenza a utilizzare il mezzo pubblico, però bisogna riabituare la clientela che grazie a una maggiore quantità di mezzi si può utilizzare di nuovo bus e tram in assoluta sicurezza, quindi serve potenziare soprattutto la linea del tram. Grazie a tutti.